ciao a tutta youtube siamo qui per vedere rapidissimamente il fantasma rapidamente perché non c'è poi tantissimo da dire è un buon fucile un ottimo fucile fucile a pompa spara un flusso di energia molto rapidamente al punto che abbiamo 11 colpi nel caricatore ma ne spara 12 al secondo per cui vi sconsiglio di aumentare ulteriormente il ratio di fuoco ha un tempo di ricarica però veramente veramente basso 0.5 secondi quindi andiamo a sparare o vicious spread su per cui vedrete un cono di energia tacchino un attimo facciamo fuori il caricatore ma ancora più rapidamente ricarichiamo per cui praticamente mettiamo un flusso di energia continuo che danneggia i nostri avversari questa è una specie di cono che colpisce su diciamo un bel un bel raggio una cosa del genere più o meno se un 4 metri di larghezza quindi vicious spread lo consiglio tantissimo anche se una mod che io non uso solitamente su di shotgun mi piace mantenere lo spread di base che hanno su quest'arma lo consiglio tantissimo andiamo un attimo a togliere vicious spread giusto per farvi vedere come spara di norma spara così quindi un flusso molto più ristretto abbiamo però anche un fuoco secondario che fa tra l'altro self damage vi faccio vedere tac il fuoco secondario è costituito in realtà da due tipologie di fuoco la prima un'esplosione che ci può fare self damage poi se vedete partono delle lucine in giro che sono in realtà dei proiettili che vanno a seguire i bersagli quindi vanno a prendere fisicamente i nemici e fanno danno su di loro quindi un danno iniziale d'esplosione ripeto che può fare self damage e poi partono queste specie di cose luccicose che vanno a cercare gli avversari e queste non fanno self damage ci speriamo i piedi a sono invincibile perché siamo nel simulacrum ma andiamo a toglierlo così vi faccio vedere la morte in diretta in civiltà posto ma se non faccio simula li prenderai comandi in teoria sì direi di sì bene siamo morti tra l'altro la cistona come al solito come prende un warframe nuovo ti spunta la ciste e ora che ti sei già pronto per fare il video non hai ancora il pelazzo per poterla eliminare quindi arma abbastanza semplice però estremamente funzionale estremamente utile è in grado di uccidere veramente facilmente qualunque nemico e fino ad un livello anche piuttosto alto pur essendo un'arma full automatica comunque devo dire che expanderla sono riuscito a gestire abbastanza bene i suoi colpi poi andando a fare qualche onslaught un po più lunga ho visto che comunque effettivamente ne ci diceva parecchi per cui ho deciso di sfruttare la polarità col tratto orizzontale quella innata per primed shotgun ammo mutation ovviamente per le munizioni ragazzi ci sono tanti sistemi ormai si può usare ammo case andando con la carrier possiamo avere magari la mutazione non primed che comunque non è che fa schifo è meno performante nella conversione dei colpi rispetto alla versione primed ma ci può stare abbiamo anche il restore di munizioni quindi insomma dipende un po come ve la volete gestire io ho visto che c'era già la polarità col tratto deciso di sfruttarla avevamo poi anche una v ne ho aggiunto un altro ho messo una forma sola tecnicamente ce ne vorrebbe un'altra per poter maxare bene tutto tutto quanto quindi basterebbe un'altra v è un'arma comunque che come potete notare ha tanto tanto status bastano tre mod ibride per riuscire ad arrivare al 100 per cento sia col fuoco primario che col fuoco secondario quindi vale la pena insomma raggiungerlo la build in realtà poi è molto semplice abbiamo nel mio caso corrosione più danno da fuoco abbiamo radiazione innato l'arma fa impatto e radiazione di base il che significa che praticamente già di base fra lo spinger via i nemici continuamente e il confondere con radiazione difficilmente chi è oggetto dei nostri danni sarà in grado di reagire rapidamente o di essere una gran minaccia insomma vicious spread per i motivi che vi ho già detto prima ovviamente anche perché fa un sacco di male in più blaze aumenta i nostri danni a fuoco i nostri danni globali in modo percentuali primate point blank nel mio caso non ancora maxata e else chamber quindi classico danno e multi shot tenete conto che come mi è giustamente stato fatto notare quando andiamo a mettere blaze cosa succede che il danno da calore il danno da corrosione hanno lo stesso valore lo stesso ammontare di danno il che significa che pur avendo 100 per cento di probabilità di applicare stati alterati poi ci si gioca quale stato alterato verrà applicato di volta in volta e essendo calore e corrosione con un pari ammontare di danno avranno pari chance di scattare quindi se noi ci interessa poter applicare un po più spesso la corrosione dovremmo ridurre il danno da calore e per ridurre il danno da calore si potrebbe pensare di togliere blaze o di togliere scattering inferno e sostituirlo con qualcos'altro se togliamo scattering inferno però tenete conto che perdiamo 60 per cento di status chance quindi sta a voi decidere in caso abbiate questa necessità io personalmente mi trovo bene così e se una volta mi procca corrosione una volta mi procca calore una cosa non mi disturba più di tanto per cui va bene in questo modo secondo me è veramente una build così piuttosto semplice funziona benissimo su quest'arma è un'ottima arma mi piace non mi piace esteticamente per quello no non mi piace per niente diciamo che a differenza di revenant no revenant mi piace abbastanza esteticamente non mi convince tantissimo per le sue prime tre abilità per il discorso dello schiavizzare mentre invece il fantasma non mi piace esteticamente ma mi piace tantissimo per i disastri poi che combina sul campo di battaglia niente questi erano i miei due veloci consigli sul fantasma un'arma davvero che vi consiglio di fare tantissimo devo dire ormai ci sono degli shotgun comunque molto molto belli molto molto forti dal plasmore dall'arca plasmore al corrent a quello uscito con gara di cui non ricordo il nome in questo momento passando per il fantasma sono tutti fucili se ci pensate molto originali molto diversi l'uno dall'altro con meccaniche di fuoco davvero comunque molto carine e però secondo me come l'arca plasmore non ce n'è è troppo bello sembra uscito dritto dritto da doom comunque davvero fantasma ve lo consiglio ragazzi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video e continuo la live ciao a tutti